Ecco che si intravede per prima Stefania Belmondo, la campionessa italiana mostra la grinta delle grandi competizioni olimpiche, da Alberville a Salt Lake City. Guardate, guardate che convinzione che tenacia, come sportiva e come campionessa di solidarietà. Io ci metto la firma. Ecco che arriva al traguardo, per prima. Firmo perché con questo semplice gesto anch'io sostengo le attività di LVA per i diritti all'acqua, al cibo, all'istruzione, per assicurare futuro e vita dignitosa a donne, uomini e bambini in Africa. Fai come me, firma per il 5x1000 a LVA. Un gesto di solidarietà che non costa nulla. Grazie a tutti.